fermatevi ragazzi perché in questo esattissimo momento nell'esatto momento in cui ho avviato la registrazione il napoli è riuscito a ripassare in vantaggio ma permettetemi di dirlo avevano appena subito il gol del pareggio e ragazzi stavano rischiando veramente tantissimo un secondo tempo diametralmente opposto a quello che gli abbiamo visto fare nel primo rivediamo perché una palla in mezzo mamma che autogol clamoroso non me ne ero accorto perché nel frattempo stavo praticamente schiacciando il tasto della registrazione poi ho visto è e ho aspettato un attimo ad avviare quindi veramente incredibile ma non solo dobbiamo parlare anche di real sociedad inter manca pochissimo andiamo in chiusura reagirò in diretta tutto quel che accadrà l'inter da poco è riuscita a pareggiare la partita con l'autaro martinez vi saluto immediatamente bentornati e ben ritrovati in fate casa al capello anzi date un voto qui sotto al mio capello da 1 a 10 poi si è un po' leggermente spostato rispetto a quando sono uscito dal pareggio vabbè ma non è questa la sede più opportuna scusatemi se sono in una postazione diversa in realtà di solito sono lì però regà mi sono dovuto mette col computer con un altro monitor perché dovevo seguire le partite ovviamente da due piattaforme diverse vi chiedo semplicemente di lasciare mi piace su questo video rapidamente per supportare questo genere di contenuti siamo a 519.000 iscritti e 0,50 se nel giro di un'oretta un'oretta e un quarto arriviamo almeno a 150 nuovi iscritti stasera stessa vi porto verso mezzanotte qualcosa il parere del buon Fabio su queste due partite dipende tutto da voi approfittatele se siete in quel 40% 45% di utenza su questo canale youtube che segue sempre i video il gatto che mi sta a spallare non so che cosa ma ancora non lo ha fatto quindi mi raccomando ragazzi miei verificate se non siete iscritti fatelo potreste aiutarmi e aiutarvi a raggiungere questo obiettivo due canali di calcio non dimenticatelo un canale extra calcio tutti i canali in infobox durante il video come sempre compariranno qui io parlo rapidamente prima del Napoli e poi vado in chiusura con la partita dell'Inter no mi sa che mi conviene parla prima dell'Inter perché praticamente la partita è terminata mentre per il Napoli ci vorrà ancora un pochino sta entrando Nathan domani nevica ragazzi miei un qualcosa vabbè ma puoi entrare novantesimo vabbè allora per entrambe le partite raga non mi aspettavo le situazioni che si sono venute a creare all'interno della partita perché se ripeto dice sono due trasferte insidiose non lo metto in dubbio per carità no però prima voglio fare un'altra critica che già facevo l'anno scorso e poi entriamo nei meriti che palle che palle ragazzi miei dover seguire da due piattaforme diverse quindi dovermi connettere poi io qua ho problemi di connessione con tablet e col computer e non riesci a seguire benissimo c'è fosse stata la possibilità ma non c'è ovviamente di vedere diretta secondo me sarebbe stata tutt'altra situazione no perché poi è la regia che gestisce e passa da una parte a un'altra così con tutte le cronache attive veramente rega da mal di testa fatta questa critica non mi aspettavo una partita del genere da parte dell'inter per quanto poi la real società va assolutamente rispettata anche e soprattutto il fattore campo il fattore casa loro no potevamo immaginare in realtà che avrebbero potuto mettere in difficoltà l'inter anche e soprattutto dal punto di vista psicologico ma il paradosso è questo una squadra come l'inter che attualmente no sembra veramente ingiocabile in serie a è quella che secondo me alla fine dei fatti al netto di tutto quanto delle italiane in champions è quella che in assoluto ha trovato più difficoltà e la dobbiamo considerare sta variabile dice la stanchezza una cosa in altra i troppi no ragazzi perché poi le italiane che più hanno deluso no in in Italia nelle nelle prime in champions league secondo me si sono comportate meglio dei nerazzurri lasciate stai il napoli che poi si è fatto riagguantà ha fatto un secondo tempo secondo me non all'altezza no però boh l'inter veramente mi è sembrata quella che ha fatto assolutamente meno che probabilmente non è chiappa in tre secondi chiappa questa partita la vince non è mai stata un partita rega per quanto poi laudaro martinez la prima vera occasione dell'inter è stata quella e una mezza occasione del mezza no un'occasione del duramma perché aveva segnato ma era fuori gioco ed è stato il gol è stato annullato ma poi è finita in questo momento quindi l'inter ragazzi si porta a casa alla fine della fiera secondo me anche un punto d'oro pensando al fattore trasferta ma l'inter praticamente rega non è mai scesa in campo quasi perché poi ripenso a come sono passati in in svantaggio no colpiti praticamente immediatamente che minuto era adesso ve lo dico ve lo dico immediatamente non me lo ricordo quarto minuto e poi ragazzi veramente il nulla cosmico l'inter praticamente fa un tiro in porta e un gol e la real società crea una mole di occasioni da rete veramente importanti per per mettere in difficoltà l'inter e addirittura per andare sul 2 sul 2 a 0 nel frattempo chiudo il tablet almeno migliora un pochino la connessione della partita del napoli e secondo me non va bene per quanto poi il risultato alla fine è positivo no però se ripensiamo all'inter che è stata nelle prime partite serie a non era poi così impossibile vincerla una partita del genere il fattore cialanoglu che è venuto a mancare per questo match l'indisponibilità non so se è semplicemente una questione di cialanoglu secondo me è una questione di atteggiamenti non vada ad imputare neanche ad inzaghi il fatto che ha voluto fare un minimo di turnover ci sta assolutamente se no quando lo fai con la rosa che te ritrovi però ragazzi qualcosa non ha funzionato ripeto e ribadisco riguardando e ripensando a tutta questa partita dell'inter non so come sono riusciti con quella singola occasione a pareggiare questa partita e a non perderla sarebbe stato anche meritato a mio modo di vedere proprio perché lo ribadisco ancora una volta l'inter non ha fatto assolutamente nulla quindi devono rivedere qualcosa e questo però dimostra che dominare il campionato fino a sto punto della stagione è relativo perché poi le partite sono secche questa soprattutto è un'altra competizione quindi basta che abbassi un attimo la guardia è una squadra che sembra ingiocabile diventa una squadra vulnerabilissima no ed è un segnale anche che l'inter comunque lancia secondo me in campionato perché poi te toglie forze te toglie certezze e le altre squadre ovviamente le vedono le partite dell'inter quindi dice ah ma è una squadra che comunque allora è vulnerabile non è una squadra imbattibile per quanto riguarda il napoli il discorso è inverso e opposto perché poi il primo tempo ragazzi è stato di una perfezione cosmica per quanto poi qualcosina hanno concesso è perché non prendiamoci per i fondelli qualche occasioncina già nel primo tempo il braga ce l'ha avuta ma il portiere del braga ha tenuto a galla i suoi alla fine no e il napoli se fosse trovato in vantaggio per due o tre a zero al primo tempo nessuno avrebbe potuto assolutamente dire nulla quindi da quel punto di vista il primo tempo del napoli è stato perfetto la sfortuna dell'infortunio di racmani appena rientrato tra l'altro quindi anche quella è una variabile una situazione che va che va considerata però per come stava indirizzando la partita io non comprendo come poi nel secondo tempo possa esserci stato tutto questo calo finisce in questo momento anche la partita del napoli quindi chiudo l'applicazione di sky in modo tale che c'ho un minimo di connessione un po' più di gioco ecco per vedere anche i dati statistici e le situazioni io veramente regà non comprendo come poi il napoli si sia fatto schiacciare dal braga perché poi ribadisco nel secondo tempo per quanto poi si il napoli ripenso al primo tempo traversa de osimen e via dicendo nel secondo tempo anche qualche altra cosina ci ha avuto la possibilità di raddoppiare però gol mangiato gol subito è inutile no poi con una palla persa malamente in uscita da osticard sta sta palla messa a mezzo sto colpo di testa vincente ragazzi ribadisco che la difesa ad oggi è il punto debole più assurdo del napoli seppur ci sono anche altre dinamiche da analizzare è una squadra che mi sembra molto più vulnerabile che forse sta perdendo qualche certezza in generale e poi vogliamo parlare di fortuna se vinci secondo me non può essere mai definita tale però per come arriva il gol no per come l'avevi subito poco prima per come alla fine riesci a sfangarla e a portarla a casa sta vittoria il braga avesse pareggiato sta partita nessuno avrebbe potuto dire nulla per come si è messa ovviamente regà sono tre punti importantissimi per il napoli che sulla carta per quanto poi ribadisco la traspetta era insidiosa sulla carta però non c'era storia il napoli no il napoli dello scorso anno avesse giocato il napoli l'anno scorso sta partita avrebbe vinto a mani basse sì perché so che poi me lo avreste chiesto regà però dobbiamo cominciare a pensare ad un napoli senza spalletti ad un napoli con garcia al napoli di questa stagione a non fare paragoni con quella precedente perché se no non ne usciamo più vivi regà lo stesso discorso di milinkovic per la lazio che vi ho fatto ieri ve lo chiedo per cortesia basta perché non si possono più far paragoni bisogna vivere nel presente e non nel passato quindi questo napoli ragazzi ribadisco perché poi sono le distrazioni sono i cali fisici che fanno la differenza il napoli guardando il primo tempo strameritava di vincere tanto a poco poi però le partite durano 90 minuti e serie equilibrata sotto ogni punto di vista e il braga probabilmente per come se stava a mette avrebbe meritato di pareggiarla al netto di tutto non è uno scandalo che napoli abbia vinto perché poi rivedo nel complesso comunque un gol in più l'hanno fatto però ecco sono campanelli di allarme anche inaspettati da parte dell'inter permettetemi di dirlo che devono un minimo accendere qualcosa nella testa dei propri allenatori e secondo me devono comunque correre a ripari per quanto poi il bilancio positivo in Champions League delle italiane è alquanto positivo o no però ci sono tante situazioni secondo me che devono rivedere c'è tempo per poterlo fare vi ringrazio per la visione di questo contenuto e come sempre vi do appuntamento alla prossima con un nuovo video la vostra se vi fa piacere qui sotto nei commenti